73 anni fa nasceva la Repubblica Italiana, era il 2 giugno 1946. Oggi in tutta Italia e anche a Verona si è celebrato l'evento con l'alza bandiera alla presenza delle autorità. La festa della Repubblica è il compleanno non solo dell'Italia, ma di tutte le istituzioni che ne fanno parte e di tutti gli italiani. È il momento nel quale noi ci riconosciamo nei valori fondanti della nostra Repubblica, che sono quelli della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza. È il momento nel quale guardiamo in noi stessi e dobbiamo ritrovare forte la coscienza civica e il senso di appartenenza a un grande Paese. Ecco, anche il Presidente della Repubblica ha voluto mandare il suo messaggio oggi. Il Presidente della Repubblica ci richiama tutti su un principio essenziale. Il Paese richiede che ci sia uno sforzo forte di coesione a livello istituzionale, a livello sociale e nei momenti di difficoltà che il Paese deve ritrovare la sua forza e lo può fare soltanto attraverso un dialogo costruttivo che metta tutti quanti dalla stessa parte.